Abbiamo assistito nei giorni scorsi al sit-in dei mitiricoltori, proprio dinanzi alla Prefettura, per questo incredibile, scriteriato incremento dei canoni annuali di concessione demaniale da 370 euro a 2.700. Mentre si svolgeva questa manifestazione, i loro signori, i vari Stellato, Musillo, lo stesso ex sindaco Melucci, i fratelli d'Italia e chi più ne ha più ne metto, ovviamente con un'azione di sciacallaggio politico, perché tale va definito, si sono avvicinati mostrando la solidarietà alla categoria. Peccato che per quattro anni e mezzo la loro presenza era assolutamente invisibile, impalpabile. Sono con Vincenzo Basile, mitiricoltore, candidato al Consiglio Comunale con il nostro movimento Taranto Senza Ilva. Vi abbiamo raccontato la sua storia, che è una storia molto bella, di un dipendente Ilva che prende l'incentivo e investe quell'incentivo per ritornare alle origini e lo investe come imprenditore nel settore della mitiricoltura. E allora, Enzo, il vostro grido di dolore, ma risposte per cinque anni non ce ne sono state. Ora però, come dicevo, si sente il fiore, si sente un po' come lo squalo, quando sente l'odore del sangue, si butta, anche perché voi avete una bella rappresentanza numerica di persone, quindi siete una fetta elettorale appetita e siccome loro non sono fessi, odorano. Ma al di là di questo, parliamo proprio della vostra situazione, di quello che chiedete, cosa si sta muovendo se qualcosa si sta muovendo? Allora Luigi, mi piace, sono Enzo, mi sono candidato con te come consigliere comunale per la miticoltura, per il turismo, per il mare, perché io sono nato nel mare e ho i miei colleghi qui che abbiamo avuto tutti lo stesso problema di questa moria di caldo che non potevamo portare questa produzione, non sapevamo dove andare e c'è morta tutta questa produzione. Questi politici che sono usciti adesso, non si sono mai visti per 4-5 anni, li stiamo vedendo adesso sotto le votazioni. Benvenga se loro ci danno una mano, se c'è un'altra mano di qualcuno. Mercato che non l'hanno fatto in 5 anni. Non l'hanno fatto prima, se lo facevano prima ci dovevamo salvare più di qualcuno, tutti ci salvavano. E cerchiamo proprio il primosino, come mare. Questo primosino che dicono che c'è il PCB, noi facciamo soltanto il sime lì, poi c'è il prodotto da spostare il 28 febbraio, qui la secondosina. E quando veniamo qua con questo sime, questo sime ci affoghiamo tutti, perché il sime è molto. Con un mare grande che abbiamo il primosino, ci potevamo dividere sia da una parte che dall'altra. E facciamo un buon prodotto. Ma non c'è mai stato questa cosa qui di aiuto da parte del comune, dalla regione, per dire, vabbè, adesso giù siamo in Mar Piccolo. Io so che per il primosino ci sono 40 milioni di euro che non vogliono spendere. Dicono che quei soldi non bastano. Io non so perché. Ecco, avete avuto un incontro, una vostra delegazione col prefetto? Sì, abbiamo avuto un colloquio col prefetto l'altro giorno. Dottor Mario Imperatrice. Mario Imperatrice, Luciano Carieri, hanno individuato dei punti dove vogliono aiutare e già sono usciti Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, Melucci, Stellato. Ma negli ultimi momenti alle votazioni. Potremmo fare prima? Eh beh, d'altronde la domanda è sempre quella. Poi non lamentatevi quando il cittadino si stanca e non vi dà fiducia. Per questo abbiamo lanciato una sfida, io come candidato sindaco ed Enzo come candidato al Consiglio Comunale. Difendiamo l'oro di Taranto, L'Oro di Taranto. La vera ricchezza, la nostra vera ricchezza sta nel mare. Grazie. 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 Grazie per la visione!